Noi ragazzi della città Bene non sapevamo neanche dove fosse Brancaccio e io mi ricordo di avere detto una cosa un po' stupida a Dompino, dove è Brancaccio, cos'è Brancaccio e lui ci disse vi ci porto io. Noi siamo rimasti quel gruppo di ragazzi due anni a Brancaccio, periferia est di Palermo, non sapevamo ancora che era il quartiere dove gli uomini di Totorina stavano organizzando le stragi. Io mi ricordo la sera quando siamo arrivati alle 21 c'era quasi il coprifuoco. Siamo rimasti due anni, Dompino ci parlava chiaramente dei mafiosi di Brancaccio, i boss graviano. Nel giugno 93 fanno un attentato al cantiere della parrocchia e Dompino dice questo è un segnale per me. Ma noi non capiamo. Una settimana prima di morire ci sentiamo con Dompino e lui mi dice io quest'anno non sarò più con voi. Aveva ricevuto minacce, non aveva però raccontato queste minacce, forse per proteggere le persone che erano accanto a lui. E mi ricordo di avere dato un'altra risposta stupida, parleremo col vescovo per farci aiutare, come se il problema fossero gli impegni di Dompino. E Dompino mi dice io quest'anno non sarò con voi. Una settimana dopo io sono a Milano e mi ricordo di avere parlato con un collega al telefono e mi dice hanno ammazzato Dompino. Io in quel momento mi rendo conto di non avere capito niente. Allora ecco perché io, questo non è un libro che dà risposte, è un libro che mette insieme tutte le domande che in questi anni ho cercato di raccogliere, le domande dei magistrati, degli investigatori, degli uomini coraggiosi che hanno cercato di cercare la verità sulle stragi ma poi anche sulla mafia. Vi dicevo ci sono delle cose che continuo a non capire. C'è per esempio un uomo, uno dei responsabili delle stragi, uno dei figliocci di Totò Riina, si chiama Matteo Messina Denaro e pensate questo signore è latitante ancora dal giugno 93 e io vi posso assicurare lo Stato sta facendo tanto. Io conosco gli uomini, le donne del ROS, dello SCO, i nostri magistrati che lo cercano. Lo Stato sta facendo un impegno importante, ognuno di noi contribuisce. Pensate ogni anno noi spendiamo 70 milioni di euro, ognuno di noi con le nostre tasse utilizziamo satelliti, spie, utilizziamo tutto quello che è possibile ma questo uomo è un fantasma. Allora qual è il punto? Messina Denaro non si trova, sapete perché? L'ultimo l'uomo che conosce i segreti delle stragi sapete perché non si trova secondo me? Perché detiene dei segreti, i segreti di quella stagione del passato, segreti su complicità eccellenti. Allora io dico l'andrangheta è una mafia economicamente forte, la mafia siciliana è più debole ma la sua forza è quella dei segreti inconfessabili. Allora all'inizio di questo nostro racconto e di questa assemblea di cittadini poi vi dirò perché, perché ognuno di noi deve sentirsi parte, peraltro vedo in platea persone impegnate su tanti fronti, il problema mafia ci riguarda tutti, la verità, la richiesta di verità ci riguarda tutti. Però intanto ho voluto seminare in questo inizio del racconto questi dubbi. Pietro. Sì, questo è il primo capitolo, il punto da cui muove Salvo Palazzolo, il suo rapporto con Doppino Puglisi, la telefonata ricevuta una settimana prima di morire, il suo rientro di corsa a Palermo. Una cosa che mi ha molto affascinato di questo libro, perché non è soltanto un racconto, non è soltanto una storia, è anche un bel testo, è strutturato bene, è scritto da Dio, è scritto bene, 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 con continue rievocazioni del passato che si mescolano alle narrazioni del presente. Noi abbiamo la storia dei fratelli Graviano che nasce sin dagli anni settanta quando c'era Don Michele, il papà dei tre fratelli Graviano, Giuseppe, Filippo e Benedetto, e Nunzia ovviamente. Poi abbiamo l'evoluzione, ma tutto questo racconto è intervallato dalle parole del Graviano di oggi, il boss più loquace della storia senza mai essersi pentito, il boss che parla in videoconferenza al processo drangheta stragista, che sa di essere intercettato al carcere, in carcere e si abbandona nel suo eloquio con il suo compagno Umberto Adinolfi e racconta, racconta, parla. Bene, questo racconto che è così avvincente anche per come è strutturato dal punto di vista narrativo, viene completato da una cosa che mi ha molto colpito, sono degli appunti, gli appunti di un cronista, magari tirati fuori da qualche tacquino sgualcito, e questi appunti sono all'esordio di ogni capitolo, racconta Salvo Palazzolo, perché Salvo ha esordito partendo dal primo capitolo, andiamo al secondo, il secondo si apre con questi appunti. Un vecchio cronista, si chiama Angelo Mangano, mi mise in guardia quando iniziai il mestiere. Palermo è città di molte imposture, disse. Lui ne aveva scoperta una, grande, attorno a un balordo di Borgata, Vincenzo Scarantino, che secondo i magistrati di Caltanissetta e la polizia conosceva i segreti della strage Borsellino. In realtà stava solo accusando degli innocenti e teneva al sicuro Giuseppe Graviano. Il 26 luglio 1995 il cronista intervistò il falso pentito che gli raccontò le violenze subite dall'allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera per non far crollare la grande impostura. L'intervista andò in onda al telegiornale della sera di studio aperto e subito La Barbera fece sequestrare tutte le cassette con quel servizio. Intanto i magistrati di Caltanissetta correvano da Scarantino per mettere a verbale una nuova ritrattazione. Angelo Mangano rischiò di finire sotto inchiesta, mentre gli altri giornalisti facevano il vuoto attorno a lui. Solo 13 anni dopo la magistratura ha accertato che Scarantino era un falso pentito e che in carcere c'erano otto innocenti. Bene, racconta Salvo Palazzolo la genesi di come questa impostura fu svelata. E fu nel travaglio interiore che sin dal 2004 iniziò ad avvertire Gaspare Spatuzza, che poi crollò nel 2008. Però questa storia, parte di questa storia, era già scritta. Era già scritta nel 1995. Perché noi ci occupiamo di questi boss di Brancaccio periferia est di Palermo? Sono i mafiosi che hanno fornito l'esplosivo militare, di tipo militare, per la strage Falcone? E c'è la storia in questo libro di un misterioso sub mai identificato che aiuta i Graviano a recuperare l'esplosivo. In particolare uno dei due fratelli è quello che aziona il telecomando per Borsellino. Sono i due mafiosi che ordinano il delitto di Dompino Puglisi. Sono i mafiosi con tutto il gruppo di Brancaccio che organizzano le stragi di Roma, Milano e Firenze. Sono i mafiosi palermitani che hanno i rapporti diretti con l'andrangheta. Non vi svelo tutto, però nel libro c'è a un certo punto la storia di alcuni andranghetisti che hanno un problema da queste parti e si rifugiano a Palermo. Portano in dono a Graviano una pistola e vengono ospitati a Palermo. A un certo punto nel 1989 qui c'è un poliziotto che fa delle indagini importanti e viene chiesta la testa, chiedono di uccidere ai Graviano questo poliziotto che viene spesso a Palermo per alcune visite mediche fatte dalla moglie. Rina dice che non si può fare l'omicidio perché stavano intanto organizzando l'attentato per Falcone. Citavamo il 19 luglio 92, Borsellino. Quel giorno si sente un botto enorme a Palermo. Io avevo iniziato a collaborare con una emittente tv e corro in questa strada. Io mi ricordo ancora questa nuvola di fumo, mi ricordo l'antifurto che suona. Andate su Google a vedere Via D'Amelio, sentirete e vedrete in queste immagini questo rumore assordante di questo antifurto che suona. Io spesso la notte continuo a sentirlo, sento il puzzo di bruciato. Mi ricordo mi sono girato a sinistra, c'era come un ciccio bello per terra, senza braccia e senza gambe ed era uno dei poliziotti di Borsellino. Io sono rimasto due ore in quell'inferno a girare, mi ricordo avevo un taccuino bianco. Sono ritornato in redazione, Angelo Mangano, il collega che poi più in là scoprirà l'impostura di Scarantino, mi dice Salvo sei stato uno dei primi ad arrivare, mi dici qualche cosa? E io gli dico Angelo io avevo, ho un taccuino bianco ma il taccuino è rimasto vuoto. In quella situazione di inferno non ero riuscito a comprendere come raccontare quello che vedevo. Ecco perché vi dico questo è anche un libro sui racconti. Non capivo se la storia bisognasse iniziare a raccontarla da quella cadavere per terra, dall'antifurto, dalla mano spiaccicata di una poliziotta su una parete del palazzo, non capivo come iniziare a raccontare. Vi capita mai di avere ricevuto una notizia brutta? La morte di un parente oppure per strada vedete un incidente e non sapete come raccontare al vostro parente, al vostro amico, come scrivere. Io vorrei che ognuno di noi riflettesse oggi perché io credo che l'impegno contro le mafie è intanto un impegno fatto di racconti quotidiani, racconti che ognuno di noi deve fare ogni giorno perché ogni giorno nelle nostre città incontriamo persone coraggiose, persone spesso sole però che fanno denunce e che restano sole. Allora l'impegno a raccontare. Chiediamoci come raccontiamo? Ed è una cosa che riguarda tutti, piccini e grandi. Come raccontiamo? Abbiamo cura, ritorno a dire, delle nostre parole? Allora io per tanti anni mi sono tenuto dentro e questo libro è anche un percorso per me di liberazione, per i sensi di colpa che provavo verso Dompino per non avere capito. Ho pensato che fosse una cosa brutta da non raccontare la paura che avevo dentro, l'inadeguatezza, l'incapacità. Dico sempre ai ragazzi a scuola non spaventatevi quando siete davanti a un foglio bianco e a fare il vostro tema. Non spaventiamoci. Io stesso quando comincio a scrivere il mio articolo ogni sera mi chiedo come devo cominciare a scrivere, come devo raccontarlo. Però per tanti anni ho nascosto questo mio sentimento. Dopo tanti anni ho capito che forse bisogna tirare fuori quello che abbiamo dentro, la nostra rabbia, le nostre paure di ogni giorno. E detto in questo periodo dell'epoca post-Covid ne abbiamo tante di paura. Dico sempre ai ragazzi alle scuole non tenete mai le vostre paure dentro, raccontatele. Allora io me lo ricordo e l'ho tenuto quel tacquino bianco. Anche quel giorno non capì niente. Il mio caporedattore, cronista esperto che continua a fare il mestiere per strada, capì che quel pentito, quel falso pentito, quello scarantino che parlava, raccontava una storia su Via D'Amelio, era un falso pentito. Pensate il depistaggio su Via D'Amelio cominciò quel pomeriggio stesso. Oggi c'è un processo a Caltanissetta, sono sotto accusa un dirigente di polizia e due ispettori accusati di avere depistato. È morto però il principale responsabile, quello che viene ritenuto il principale responsabile, l'ex capo della squadra mobile Arnaldo Labarbera. Quel pomeriggio un'agenzia ANSA diede la notizia che l'autobomba di Borsellino era una 126, dice il giornalista Fonti di Polizia. Storia curiosa perché i magistrati lo scoprirono che era una 126 soltanto il giorno dopo e soltanto perché un tecnico della Fiat fece delle analisi specifiche. Allora come faceva quel poliziotto a sapere che quel pomeriggio l'autobomba era una 126? E cominciarono a costruire un falso pentito che per tanti anni ha spostato le responsabilità dai veri sicari, i boss graviano, ad altre persone che non c'entravano niente. Ma sapete qual è la storia straordinaria? Scarantino era un balordo vestito da pupo, come diciamo in Sicilia. Ma Scarantino raccontava una storia vera, cioè Scarantino raccontava una storia vera con delle persone false. La 126 rubata in quella strada, il percorso che aveva fatto la 126 e Scarantino era un veggente? No. Qualcuno ha suggerito a Scarantino. Allora e non capivo, qualcuno ebbe la lucidità di attraversare quella strada, arrivare in fondo a Via D'Amelio, aprire la portiera posteriore a destra, lato guidatore. Dico ai ragazzi nelle scuole i dettagli, nei racconti sono sempre importanti i dettagli. Borsellino guidava lui la macchina, aveva messo la borsa fra il suo sedile, quello del guidatore e dietro. Qualcuno ha la freddezza di aprire la portiera posteriore, prende la borsa e fa scomparire l'agenda rossa. L'agenda dove Paolo aveva, il giudice Paolo aveva segnato le sue ultime verità, le sue ricerche su quei 57 giorni di indagine. Ma era accaduta la stessa cosa anche il 23 maggio. Quando uccisero Falcone, mentre Giovanni Brusca andava via dalla collinetta, qualcuno era entrato al Ministero della Giustizia, nell'ufficio di Falcone. Ci sono stato, si entra a sinistra, secondo piano, 40 passi a destra, la stanza di Falcone e rubò dai suoi computer il suo diario. Sapete, quando ho cominciato questo mestiere e seguivo all'aula bunker i processi, la sera mi ritrovavo sempre più domande che risposte, domande sui delitti di Palermo e mi chiedevo ma io che ci sto a fare? Sono un giornalista, sono chiamato a raccontare ma non ho risposte. E allora ho cominciato a fare un gioco strano per proteggermi forse da queste domande che mi surclassavano. Le ho cominciato a mettere questi foglietti dentro una scatola. Conservatele sempre le domande, le domande a cui non riuscite a dare risposta, non strappatele, conservatele. Però un giorno questa scatola è diventata piena di foglietti. Un giorno mia mamma, le mamme sono sempre importanti, mi ha detto ho bisogno di questo armadio, devi liberarmi questo armadio. Io ho insistito ma io ho bisogno di questo armadio, ho bisogno di questa scatola, bisognava liberare l'armadio. E allora ho tirato fuori tutti questi foglietti e li ho messi uno dietro l'altro. Le domande vanno messe uno dietro l'altro e vanno sistemate per data perché la nostra vita è fatta di dettagli che non vanno persi. E all'improvviso mi sono reso conto che le domande sui delitti di Palermo avevano una ricorrenza. Nel 78, dopo l'omicidio di Impastato, qualcuno era andato a perquisire non casa di Badalamenti, del boss, ma era andato a casa di Peppino. Dei rappresentanti delle forze dell'ordine non degni di questo nome erano andati a casa di Peppino. Giovanni, il fratello, mi ha raccontato che hanno portato via dieci sacchi pieni di carte, l'archivio di Peppino che non c'è più. Ma voi pensate quante idee straordinarie Peppino avrebbe avuto per noi su mostre, festival, iniziative, libri, dieci sacchi pieni di carte. La notte in cui ammazzarono il prefetto dalla chiesa, 3 settembre 82, mentre ancora il cadavere era nell'auto con la moglie. Qualcuno entrò in prefettura e rubò le carte del prefetto. Il pomeriggio in cui ammazzarono Ninni Cassarà, il principale collaboratore di Giovanni Falcone, mentre i killer scappavano, qualcuno entrò alla squadra mobile di Palermo e rubò l'agenda di Ninni Cassarà, anche questa rossa. Il 5 agosto 89, mentre il corpo del poliziotto Agostino e di sua moglie Ida Castelluccio, incinta di quattro mesi, erano per terra. Qualcuno rubava da casa l'archivio dell'agente Agostino impegnato nella ricerca dei latitanti. Signori, ci hanno rubato le parole migliori. Ecco perché la lotta alla mafia è una sfida che ci chiama tutti. Come facciamo a raccontare questo Paese? Come facciamo a raccontare il futuro di questo Paese se ci hanno rubato le parole degli italiani migliori? Ma queste parole non sono sicuramente nelle celle di Riina, Provenzano. Io mi chiedo chi sono gli uomini delle istituzioni che hanno rubato queste parole, che sono entrate nelle scene del crimine, nelle abitazioni, negli uffici. Dove sono queste parole? Sono forse l'arma di ricatto che Messina Denaro utilizza ancora? Sicuramente il pentito Giuffre ci dice che Messina Denaro conserva l'archivio di Totò Riina, un altro archivio di misteri. Allora io vorrei che partisse da questo festival anche da questo festival una battaglia che sto portando avanti da mesi. Io chiedo che tutti gli archivi di Stato vengano aperti, che non ci siano più archivi di Stato chiusi, gli archivi dell'intelligence, dei ministeri, delle forze dell'ordine. In teoria in Italia non c'è più il segreto di Stato sui fatti di mafia, sulle stragi di mafia, una direttiva voluta dal Presidente del Consiglio Renzi, ma sapete che cosa accade in concreto? Quando un magistrato scrive a una istituzione, l'istituzione poi controlla cosa c'è in archivio e risponde al magistrato. Dobbiamo essere grati per il nuovo corso dell'intelligence, del governo, della politica, di attenzione e di collaborazione. Però credo che bisogna fare molto di più. Pietro. L'espressione che usa Salvo nel suo libro è uomini senza volto. Ha menzionato prima il sub che tirava su dagli abissi l'esplosivo da residuati bellici che doveva essere utilizzato nelle stragi. Ce ne saranno altri. Ci sarà l'uomo nel garage di Villa Sevaios, ci sarà l'intermediario, non ricordo come veniva definito, ci sarà faccia da mostro. Quanti faccia da mostro esistevano? solo Giovanni Aiello? L'uomo è un calabrese e ci sono tanti riferimenti alla nostra terra anche in questa storia. Era solo Giovanni Aiello? E poi Salvo prima menzionava, dice non voglio svelarvi tutto di questo libro, però questo è una cosa che voglio svelare io perché è importante, perché ci collega alla nostra terra. Chi sono i quattro calabresi che, con le rispettive consorti e le famiglie, che cercano protezione dai graviano? Sono i fratelli Notar Giacomo, sono i fratelli Bartolomeo, sono gli assassini di Sergio Cosmai. Assolti in via definitiva per l'omicidio Cosmai si pentiranno dopo quando non potranno più essere condannati, servirà e basterà la condanna del mandante Franco Perna. Ma i fratelli Notar Giacomo e i fratelli Bartolomeo volevano la morte di un poliziotto, un poliziotto che si chiamava Tony Provenzano e quel poliziotto mi ha ricordato, Salvatore Aversa, che ha servito questa città e che è morto per questa città, per la città di La Mezza Eterna. Quindi ciò che ci appare così lontano, ci appare oltre lo stretto è anche la nostra storia, perché è una storia speculare a quella che noi abbiamo vissuto giorno dopo giorno, forse in maniera diversa rispetto a quella che hanno vissuto i siciliani, perché l'Andrangheta tradizionalmente non ha mai, salvo che per rendere un favore a Cosa Nostra, come nella vicenda dell'omicidio del giudice Antonino sono scopelliti, salvo che per appoggiare lo stragismo nel continente i calabresi si sono già mossi. Però l'Andrangheta ha sempre voluto un basso profilo, non di meno mantiene ancora oggi, segreti inconfessabili. Ora bisognerebbe trascorrere tutta la notte per raccontare, per parlare di questo. Diciamo che nel racconto forse sono storie marginali, sono vicende marginali, sono dettagli, però come dice Bene Salvo sono i dettagli a fare la differenza. Una cosa che mi ha molto colpito, noi spesso ignoriamo, ignoriamo quei morti che non indossano la toga o che non indossano la divisa e magari ignoriamo che quei morti a volte sono capaci di sfatare morti come dei falsi miti, morti come le due bambine di via dei giorgofili, morti come le donne ammazzate peggio degli uomini da Giuseppe Lucchese, il maestro della pistola di Giuseppe Graviano. Ecco, è una cosa che mi ha molto colpito, anche il modo in cui tu hai introdotto le prime parole rese dai magistrati da Gaspare Spatuzza, che ha iniziato a parlare di morti ammazzate e sconosciuti, dei quali tutti magari erano mafiosi pure loro, delinquenti pure loro, ma avevano dei nomi. E così quando noi parliamo della stagione delle stragi, sì, parliamo di Falcone, parliamo di Borsellino, parliamo delle donne della scorta, ma dimentichiamo che ci sono stati migliaia, ne hanno ammazzati migliaia. E con il loro sangue, sangue innocente, ma anche sangue mafioso, si è scritta la nostra storia. Sarebbe bello raccontare i morti che nessuno racconta, parliamo sempre solo e soltanto di alcuni magistrati. Quante vittime dimenticate ci sono? E allora, vi ho detto, per me questa è un'assemblea di cittadini. Se partecipate a questo festival di racconti è perché avete voglia di raccontare, vedo qui, qualcuno lo conosco, persone impegnate su tanti fronti, nelle associazioni, nelle scuole, nelle pubbliche amministrazioni. Vedo studenti, ma non sarebbe bello raccontare le storie, adottare una vittima dimenticata. Lo dico agli studenti, negli anni Ottanta, quando a Palermo si guardava con distacco Falcone e Borsellino, noi studenti scendevamo in piazza. Poi non ci rendemmo conto che non bastava soltanto scendere in piazza, era necessario essere vicini come? Di più. Allora, leggendo forse le sentenze dei magistrati, andando a sentire le udienze e poi raccontando. Sarebbe bello raccontare le storie che nessuno racconta, sarebbe bello andare a conoscere i familiari dei poliziotti uccisi in Calabria e chiedere a loro un racconto, filmarlo con un telefonino e lanciarlo su TikTok, dove nessuno parla di mafia, lanciarlo sui social. La vera sfida, amici miei, è quella di raccontare delle mafie dove non se ne parla. Diciamocelo chiaro, abbiamo parlato della politica, io non vedo nell'agenda politica grande attenzione sui temi della mafia, io non vedo nei giornali titoloni sulla mafia. Allora, questo festival è unico e voi siete straordinari perché io non vedo una iniziativa così partecipata a Palermo da tempo. Allora, voi che siete attenti e sensibili, potete forse mettere in campo dei racconti ogni giorno, come singoli, come associazioni. Signori, la sfida è altissima, ma non soltanto per la ricerca sulle stragi. Sapete che cosa emerge dalle intercettazioni dei nostri magistrati? In Sicilia, in Calabria, ma anche in Piemonte, in Lombardia, ci sono imprenditori che cercano i mafiosi perché hanno bisogno di favori. A Palermo sono stati scarcerati 250 mafiosi negli ultimi anni, hanno finito di scontare il loro debito con la giustizia e quindi escono. Ma il mafioso che esce torna a delinguere, l'andranghetista che esce torna sul territorio già il pomeriggio. Ma che cosa accade? La cosa incredibile è che non è il mafioso l'andranghetista che va dall'imprenditore, dal commerciante, è il commerciante l'imprenditore che va dal mafioso e non c'è più il pizzo, c'è la tassa, la mafia e l'andrangheta offrono dei servizi. A Palermo è accaduto che un imprenditore voleva il monopolio della vendita di un paio di jeans, sì, voleva vendere questo paio di jeans che va molto fra i giovani e voleva l'esclusiva per la vendita in un dato quartiere. Si rivolse al mafioso e il mafioso gli assicurò che gli altri imprenditori della zona non avrebbero venduto quel paio di jeans, ma anche un commerciante del centro storico che voleva vendere una mozzarella di bufala particolare. Accadde a un altro imprenditore che subiva delle rapine fastidiose, ma lui non si rivolse alla polizia, si rivolse ai mafiosi che offrirono il loro servizio. I rapinatori furono presi, bastonati, il maltolto fu restituito. È accaduto a Palermo che alcuni politici in campagna elettorale sono stati arrestati perché sono stati sorpresi a chiedere voti ai mafiosi. Allora io oggi vorrei spezzare una lancia per questi poveri boss, lasciateli in pace. Battuta a parte, il vero problema non sono i mafiosi, è questa terribile voglia di mafia che pervade la nostra Italia. Io racconterò presto la storia di un anziano boss, vi faccio ridere e sorridere ancora, un anziano boss che è stato scarcerato, uno dei boss che ha fatto tanto a Palermo per Cosa Nostra. Uscendo ha detto alla moglie, guarda io me ne sto a casa perché proprio ho pagato, basta. Insomma questo vecchietto ogni pomeriggio era disturbato dal commerciante, dall'imprenditore, dal politico e un giovane boss gli spiegò, Don Ciccio, lei è Don Ciccio e non può cambiare, e Don Ciccio dovette ritornare a fare il capo mafia. Allora povero Don Ciccio. Allora che cos'è questa voglia di mafia che pervade la Sicilia, la Calabria, ma anche la Lombardia, il Piemonte, il Nord, imprenditori che cercano i mafiosi per le scorciatoie. Sapete Messina Denaro, l'uomo delle stragi, l'uomo che non si trova, Rina si arrabbiava a proposito perché diceva in carcere ma questo mio figlioccio, suo padre me l'ha affidato, l'ho fatto crescere, invece di proseguire ad ammazzare quelli, i giudici, si è fissato con i pali. Messina Denaro ha la passione per l'energia eolica, per i pali eolici. Messina Denaro fa l'imprenditore, è un mafioso 2.0, Messina Denaro è già avanti. Messina Denaro a Trapani non chiede il pizzo, Messina Denaro a Trapani dà soldi agli imprenditori, ma non è un benefattore, acquista quote societarie, acquisisce imprese, è un abbraccio mortale. Sapete a Palermo, e ve lo chiedo anche a voi, non voglio saperlo ma interroghiamoci, magari sapete anche voi, a Palermo in questi ultimi mesi di crisi per il Covid alcuni signori ben vestiti hanno fatto alcuni giri per i negozi migliori di Palermo, per le imprese, offrendo denaro contante. Sono gli uomini della mafia che chiedono di entrare in società e alcuni locali della Movida Palermità hanno già cambiato ragione sociale, i bossi di Cosa Nostra si sono già riorganizzati, sono nel tessuto economico di Palermo. Allora questa è la sfida, a Palermo la mafia voleva, perché poi grazie a un'indagine questa storia si è bloccata, voleva addirittura controllare i prezzi al mercato ortofrutticolo. I mafiosi vogliono stabilire i prezzi della spesa che io faccio ogni giorno, vogliono stabilire che il carciofo di cerda deve costare tanto, che le ciliegie migliori della Sicilia devono costare tanto e allora io mi incazzo, mi arrabbio, scusate. Non si dicono queste cose, queste parole non si dicono, il giornalista a volte usa un linguaggio, lo dico per i più piccoli, perché la mafia vuole entrare nelle nostre case, l'andrangheta vuole entrare nelle nostre case, vuole prendersi i negozi migliori delle nostre città. Allora ho detto agli studenti che sono sempre la parte più battagliera del movimento antimafia, facciamolo un sondaggio, andiamo a chiedere ai commercianti del centro città, avete ricevuto richieste di soldi? Avete ricevuto richieste di pizzo? Facciamoci un giro nei locali di Palermo, di La Mezzia, la sera si torna a spacciare? A Palermo la mafia è tornata a controllare le reti di spaccio, non soltanto il traffico della droga che continua ad arrivare dalla Calabria verso Palermo, ma anche le reti di spaccio, si spaccia davanti alle scuole, si spaccia nei locali migliori di Palermo, la droga e le scommesse online sono gli affari che Cosa Nostra oggi gestisce. A Palermo ci sono strade, vi chiedo di domandarvi, fatevi anche voi la domanda, nelle nostre città accade pure questo, ci sono strade piene di agenzie di scommesse, per carità le agenzie di scommesse sono lecite, lo Stato le gestisce, i cosiddetti punto it, ma che cosa accade a Palermo? Dentro queste agenzie di scommesse ci sono dei terminali, cosiddetti punto com, che sono dei server direttamente su Malta, gestiti spesso da calabresi, che hanno il rapporto diretto con i maltesi e allora dico ai ragazzi delle scuole, quando voi uscite da scuola e pensate di andarvi a divertire, andate a fare le scommesse alla sala scommesse sui punto com, state finanziando direttamente le cosche, perché quei soldi vanno direttamente da Malta, in Svizzera, in Bulgaria, ai tesori di Cosa Nostra. Allora questa è la sfida amici. Pietro. Sì, ci approssimiamo alla conclusione. Prima di porgere un'ultima domanda a salvo, volevo leggervi un altro passaggio di questo libro. Prima vi ricordavo delle due bambine morte in via dei Giorgofidi, parliamo di Nadia e di Caterina, avevano 9 e 2 anni, erano le figlie di Fabrizio ed Angela, che sono morti anche loro. Però il simbolo dei bambini uccisi resta il piccolo Giuseppe di Matteo, il figlio di Mario Santo di Matteo. La morte del piccolo di Matteo, Salvo Palazzolo, la scrive così, la racconta così. Il 23 novembre Cannella, Cristoforo detto Fifetto, corre nel garage di Vicolo Guarnaschelli, dove il comando è riunito. Upicciriddu è arrivata al maneggio e partono due auto. E Grigoli, a dire al bambino, siamo della protezione, dobbiamo portarti da tuo padre. E lui risponde, sì, sangu di me patri. Riferirà a Spatuzza nel 2008, quando iniziò a collaborare con i magistrati. Agli occhi del ragazzo siamo apparsi degli angeli, ma in realtà eravamo dei lupi. Lui era felice, diceva papà, papà mio, amore mio. Lo consegnano ai carcerieri. Giovanni Brusca ha preparato la prigione e reclutato i carcerieri. Grigoli, Spatuzza e gli altri vanno via. Giuseppe Graviano ha affidato un nuovo incarico da portare a termine. Mentre il piccolo Giuseppe piange, lo tengono al buio. Di tanto in tanto gli mettono un cappuccio, lo legano e lo infilano dentro al portabagagli di un'auto per spostarlo in un altro tugurio, nelle viscere della Sicilia. Resterà prigioniero 778 giorni, poi verrà strangolato e sciolto nell'acido. Questo è un racconto di straordinaria potenza narrativa, perché non c'è soltanto la storia, uno spaccato del nostro paese e tante domande che si annidano e si intrecciano e restano ancora senza risposte. Io ho molto apprezzato questo e ho apprezzato anche il coraggio di Salvo Palazzolo di dire una cosa sulla scorta delle sue convinzioni, perché Salvo Palazzolo è assolutamente inclemente nel raccontare la storia giudiziaria e gli intrecci tra mafia e politica, tra la mafia dei fratelli graviano e colori quali gli hanno messo un paese nelle mani. Marcello Dell'Utri, quello che accadde a Roma, in Via Veneto, al Bardonei, eccetera. Racconta senza sconto alcuno anche la storia dell'intreccio, dei rapporti tra Silvio Berlusconi e la mafia siciliana, dagli anni 70 fino al 1994. Però Salvo Palazzolo, inclemente nel suo racconto, lucidamente dice a un certo punto, è un inciso, io credo che Giuseppe Graviano non abbia mai incontrato Berlusconi, perché? Allora, nelle dichiarazioni che Graviano fa al processo di Reggio Calabria, lui dice delle cose, a un certo punto quindi è una storia strana che un mafioso parli, non è un collaboratore, è un mafioso incallito, lui ce l'ha a morte con Giovanni Falcone perché dice ha depistato il maxiprocesso, ce l'ha pure a morte con Berlusconi perché dice che aveva investito nelle sue società e questi soldi non ci sono più, il nonno materno. Però leggendo tutte le dichiarazioni di Graviano mi sono accorto che, e questa è la mia tesi, che le sue verità sono nelle cose che non dice, lui non cita mai Messina Denaro, cita sempre un tramite con Berlusconi e Dell'Utri, neanche Dell'Utri lo cita, Dell'Utri come voi sapete braccio destro di Berlusconi, condannato definitivamente per concorso in associazione mafiosa fino al 92. Allora io ritengo che Graviano non citi le vere persone con cui lui ha parlato, sicuramente nella fine del 93 i Graviano fanno una campagna elettorale importante a Palermo per Forza Italia. Qualcuno ha garantito che Forza Italia è il partito che darà a Cosa Nostra delle garanzie, chi ha garantito Dell'Utri, chi altri? Nel libro si parla, ho scoperto di alcune lettere che Graviano, Giuseppe ma anche Filippo scrivevano dal carcere, lettere che erano rimaste in un archivio del Palazzo di Giustizia e pensate in alcune di queste lettere lui parla con un cugino, scrive a un cugino e racconta delle barzellette. Questa storia è strana perché queste barzellette sono piene di numeri, io per tanto tempo mi sono scervellato su queste barzellette, questo suo cugino era malato di tumore, tu scrivi delle barzellette a una persona che sta così male, per carità puoi anche farlo, ma mettendo insieme le barzellette a gruppi di tre c'è una sequenza, non vi svelo quale, secondo me può essere la chiave per comprendere dove portano i segreti. In quei mesi, fra il 96 e il 97, andiamo a chiudere, lui scriveva anche, Giuseppe e Filippo scrivevano alla mamma e alla sorella dicendo di portare delle piante con dei bulbi alle loro fidanzate. Qualche mese dopo nascono dei bambini, le due signore restano incinta e in queste lettere loro parlano sempre di un sacerdote, parlano sempre che sono devoti, che dicono il rosario, che vogliono andare a messa la domenica e che questo prete non viene. Allora questo prete è un altro complice dei boss graviano che ha consentito di portare fuori qualcosa? Domande, questo è un libro di domande e mi piacerebbe, ed è il mio saluto, che queste domande vi facessero venire voglia di raccontare anche voi. E allora visto che questo è un festival di racconti, io vorrei che anche voi portaste in tasca sempre un taccuino, come il taccuino bianco che io conservo, quel taccuino rimasto bianco, lo dico ai più piccini, un quaderno, sceglietelo un quaderno a quadri, a righe, scegliete anche la penna che è importante, blu, rossa, verde, non sono matto, perché quando il giornalista è per strada e scrive, io vi posso dire che la magia della penna e del quaderno è tutta un'altra cosa. Noi siamo abituati, voi più piccini siete la generazione di internet, scrivete sul telefonino, ma la bellezza di scrivere con la penna o con la matita è un'altra cosa. Allora io vi auguro di avere ogni giorno una storia bella da raccontare, soprattutto raccontate quello che avete dentro, quello che vedete, raccontate le storie coraggiose delle vostre città, il dramma di queste nostre terre, della Calabria, della Sicilia, ci sono tante persone coraggiose, ma persone che restano sole nelle chiese, nelle scuole, nelle associazioni, nella politica, allora sarebbe bello fare una lista di tutte quelle persone che sono sole e soltanto i racconti possono dare la svolta a questo Paese. Io credo che le parole che ci hanno rubato, le parole di Borsellino, di Falcone, di Impastato, di Dallachiesa, di Agostino, un giorno riusciremo a trovarle, però intanto dobbiamo mettere insieme le nostre parole, le parole di ognuno di noi, ognuno di noi si senta chiamato, chiedendo alla politica di occuparsi di mafia, chiedendo alle amministrazioni locali di dare sostegno ai commercianti, agli imprenditori in questo momento di crisi. Don Pino Puglisi diceva se ognuno fa qualcosa. E allora il testimone che vi passo, che ci passiamo e vi ringrazio perché l'entusiasmo che riporto a Palermo, l'entusiasmo che ho visto nei vostri occhi piccini e grandi è davvero tanto ed è motivo di forza per andare avanti e continuare a raccontare questo nostro paese. Grazie. Vi saluto, anzi vi invito a restare perché adesso c'è Giovanni Bianconi insieme a Giovanni Tizian. Volevo leggervi due righe perché sono estremamente significative. Non le scrive Giovanni Salvo Palazzolo, Salvo le riporta, le scrive forse l'unico pentito che io ascoltando in tribunale, l'ho ascoltato al maxiprocesso nella Ola Bunker a pochi chilometri da qui, ritengo si sia veramente pentito, che è Gaspare Spatuzza. Gaspare Spatuzza scrive a Giuseppe Graviano, una lunga lettera, si deve avere la capacità di rompere questo schema terroristico mafioso che è profondamente radicato nella nostra cultura. Ero affascinato da questo mondo mafioso, questa convinzione che mi sono portato dietro per molti anni e mi ha trascinato nel baratro di grandi sconfitte. Sono fiducioso, aspetto con la preghiera la conversione di tanti ragazzi, oggi uomini maturi che come me hanno fatto scelte sbagliate. Tuo fratello in Cristo, Gaspare Spatuzza, post scrittum, ci sono tanti morti nella mia vita, ma il più morto di tutti è il ragazzo che io fui. E questo spero sia un messaggio che possa arrivare veramente ai cuori, di che ancora nel cuore ha soltanto il male. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie.